Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fifi Lì per lavori, tre chilometri di coda in direzione mare tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina. Il cantiere chiuderà il 20 dicembre con oltre un mese di anticipo rispetto al crono programma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Per traffico intenso code in uscita all'Astra Signa in direzione mare. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna code per traffico intenso tra Firenze e Scandici e il Bivio per la variante di Valico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!